E' arrivata la notizia che stanno uscendo nuovi pozzi sulla stessa zona. E tu sai che fastidio mi dà? Dici due volte la stessa cosa. Occupati tu di tutto. Ma me l'avete qui, sto tranquillo. Devono capire una volta per tutte chi comanda l'acqua qua. Ernesto ha chiamato e dice che le piante stanno morendo di sete. Quindi il problema qua è la ragazza. È scappata Nenni. Se stasera non la vedo a casa, è meglio che vi facci tu il segno della croce. Senta, non è che per caso ha visto questa ragazza qua? No, una così in un paese come questo si noterebbe. Ti porterei via con me. Vuoi venire con me? Ehi, dove dobbiamo andare? Io non mi sono mai mosso da qui. Away? Allora non? Allora non? RAPDO MANTE, CHIRO MANTE, GIA FAI E' BUONO. E che ti devo dire? Dici che te non fulghi ne dà la mano. Dici che l'acquero sbolla. Dici che ho le strappaglie le mani. RAPDO MANTE, RAPDO MANTE, RAPDO MANTE, RAPDO MANTE, RAPDO MANTE, RAPDO MANTE. RAPDO MANTE! U scratcha, trentino e piccola. Vabbè, lui, lui, che non ti succede niente. Lui. Il mio passaporto! No! Nel mio! Fuori!